1, 2, 3, quante gocce le do? Ma quale gocce che questo qua non vede una donna di Pier Coccolone? Per me questo io vera un'emiparesi motoria progressiva al lato sinistro del corpo. E' inutile che te tocchi, sa, tanto la paralisi te vi è. Dormi, dormi, brutta zuzza, andiamo. Buongiorno, il dottor Patachiola, per favore. Si accomodi. Grazie. Dottore, c'è una ragazza. Meno male, la facci spogliare. Ma guardi che veramente io non... Ho detto si spogli. Hai sentito? Spogliate, sino si incassa. Io non capisco. Ma perché mi devo spogliare? Sono l'infermiera. E lo vieni a dire a me? Io sono venuto a leggere il gas e già il terzo clistere che mi fanno. E si spogli anche lei. Ma io sto benissimo. Appunto, si spogli. Come si sente? Ma veramente sono io che sto male, dottore. E che si sente? Vedi, dottore, quando faccio l'amore con mia moglie, una volta muoio dal freddo e una volta muoio dal caldo. E te credo, te le fai una a Natale e una a Ferragosto? N'è vero, signora? Che cura mi consiglia, dottore? Giovanotto, lei ha sbagliato studio. Qui a dieci metri c'è uno sfascia crozzi. Domenica! Buttalo fuori!